Don Pietro Mari che è il responsabile dell'ufficio del dialogo ecumenico ed interreligioso della Diocesi di Salerno ha organizzato una serie di incontri che hanno al centro l'attenzione alla vita in tutte le forme in cui la vita possa essere declinata. Ecco, Don Pietro Mari è da sempre attento non solo per il suo essere sacerdote ma anche per una vocazione particolare proprio ai temi della vita, dell'integrazione e del dialogo. Questa è l'occasione per ascoltare testimonianze importanti. Sì, con lo stessa grinta, entusiasmo e passione che ho cercato di vivere al Volto Santo, adesso con la Fraternità Nazareth che è un gruppo della parrocchia Gesù Redentore che ci ospita, continuiamo questa attenzione ad annunciare Gesù Cristo come uno che ha scelto tra i suoi prediletti gli ultimi, i poveri, quelli che fanno più fatica a vivere, i migranti in tutti i sensi, i naufraghi in tutti i sensi, i naufraghi in campo personale, in campo familiare, affettivo e i naufraghi che purtroppo muoiono nel cimitero liquido del canale di Sicilia. Allora, in questa visione abbiamo organizzato degli incontri con dei testimoni. Oggi, giustamente, le persone sono un po' stanche di parole, facile parlare. Bisogna incontrare persone che le parole le hanno trasformate in impegno costante, sempre come attenzione a quelli che hanno più bisogno di attenzione. È un tema delicato, Don Pietro, il dialogo, l'argomento migranti, l'argomento della convivenza, dell'accoglienza. Ecco, e allora a cosa siamo chiamati? Siamo chiamati a un gesto di responsabilità? Siamo chiamati ad una maggiore attenzione? Cioè, che cosa deve prevalere? Direttore, innanzitutto dobbiamo liberare il campo da molte menzogne che circolano. Si parla di invasione. La percentuale degli stranieri presenti in Italia è ancora fisiologica, non è patologica. Vengono a compiere dei crimini, dei reati. Il tasso di criminalità intestata agli stranieri è inferiore o alla pare di quello degli italiani. Con la differenza che noi italiani viviamo, o meno aggiatamente, nonostante la crisi, questi invece stanno in estrema difficoltà. Ancora vengono a rubarci il lavoro. Sono i dati dell'Inps che ogni anno loro danno all'Inps come contributi decine e decine di miliardi che consentono ai nostri pensionati di percepire la pensione. Quindi ridimensioniamo un po' questa paura che certi allarmisti, appunto, professionisti della paura, fanno circolare per basse ragioni di botteghe elettorali. Certamente il problema dei migranti è un problema serio, è un problema epocale. Dobbiamo non aver paura oppure neppure essere superficiali. Accogliamo tutti. Bisogna governare questo fenomeno. Naturalmente da parte nostra, accanto all'accoglienza, ci vuole l'impegno perché queste persone si integreno e rispettino anche quelle che sono le regole nostre. Da parte loro, appunto, ci vuole questo atteggiamento di grande rispetto nei confronti di un paese che li accoglie e che vuole in qualche modo integrarli, dove però l'integrazione non deve significare l'assimilazione ai nostri usi e costumi, le loro differenze le debbono conservare, le debbono integrare, la convivialità delle differenze, cioè la loro diversità deve essere conciliata come una tessera di un mosaico alle nostre caratteristiche. E questo comporta un arricchimento della loro cultura e anche della nostra. Per essere un ex parroco, come la devo chiamare, insomma, andato in pensione, avete visto che Don Pietro Mari continua evidentemente in modo ancora forse più convinto o con la stessa convinzione il suo impegno, in particolare quello proprio per l'integrazione e per il dialogo. Ma dopo un anno, come oggi a mente fredda, come si vive senza essere più, tra virgolette, il capo di una comunità di fedeli che l'hanno invocata, hanno sperato che le restasse? Lei è stato invece mandato in pensione per raggiunti limiti d'età. A parte il fatto che non mi sono mai sentito capo. Perciò ho detto tra virgolette. Certamente, quindi fratello e compagno. Ora, io credo che una persona, il suo impegno non lo fa derivare dal posto, dallo spazio, dall'area geografica in cui si trova, ce l'ha dentro di sé. Per cui io sto continuando con lo stesso entusiasmo, passione, grino, quello che facevo al volto santo. E ho visto anche che tante persone mi hanno seguito, quindi non sono solo. E noi continuiamo il nostro cammino, nel rispetto degli altri, naturalmente, però fedeli a quelle che sono le nostre impostazioni. Oggi le persone si aspettano l'annuncio di Gesù Cristo e l'attenzione alla loro vita, ai bambini, agli anziani, ai disoccupati, ai giovani, ai depressi. Un prete è chiamato a fare queste cose, lo può fare dovunque si trovi. L'ho fatto al volto santo, continuo tranquillamente a farlo anche a casa Nazareth. Questo Papa, Francesco, ha messo tutti noi, ma credo abbia messo anche tutti voi, di fronte ad una rivoluzione, non solo nel linguaggio, ma proprio nei gesti, che simbolicamente e ciclicamente compie. Devo dire che la Chiesa, intesa come gerarchia, non sta attraversando un bel momento, i corvi, i veleni. Ecco, e come vive un umile, come lei si definisce, parroco, come devo chiamarla, sacerdote, servo di Dio in questo caso? E di nessun altro. Come la vive questo? Come lo vive questo? Servo di Dio e di nessun altro, mi reputo. Allora, per me Papa Francesco è stato un grande dono di Dio alla Chiesa e al mondo. Lo dico con rammarico. Oggi non c'è più nessun leader mondiale, ad eccezione di Papa Francesco. Lui sa parlare all'uomo, all'uomo di ogni razza, di ogni cultura, di ogni religione. È una grande voce quella di Papa Francesco. Suscita un entusiasmo incredibile in tutto il mondo. Nella Chiesa c'è qualche riserva, soprattutto tra l'alto clero. Ogni giorno i giornali ci riportano reazioni che sono un po' scomposte, secondo me immotivate. Perché accade questo? Perché Papa Francesco è uno specchio che riflette in maniera anche brutale le nostre deformità. Lui che vive poveramente, in 60 metri quadrati, che ha un contatto con le persone, umano, fraterno, diventa come dire un'accusa a chi invece ancora vive paludato, in grandi palazzi, in cui si gloria solo di avere il fasto dell'esteriorità. E allora cosa si fa quando lo specchio riflette le nostre deformità? Ce la vendiamo con lo specchio, ci chiama di romperlo. Ma non ci riusciranno a rompere lo specchio che è Papa Francesco. Don Pietro, per chiudere, questa città, Salerno, che è cresciuta in questi anni, indubbiamente è cambiata, si è modificata, per certi versi è migliorata. Ora si trova anche ad una svolta, quella di mettere a sistema questa crescita. Di ieri la notizia che in Campania ci sono oltre 130.000 persone, in maggioranza giovani, che rispetto all'anno scorso hanno lasciato la regione per andare all'estero. Sono soprattutto giovani, alcuni ritornano, altri no. Ecco, cosa si può fare per dare un futuro, perché è di quello che stiamo parlando, una prospettiva ai giovani? Allora, io ho ritenuto sempre che il Vangelo, la proposta del Vangelo, non sia fatta per chi vuole diventare santo, salvarsi l'animo, ma per chi vuole dar senso pieno alla vita, soprattutto a quelli che vedono che la vita non mantiene le promesse. Allora la Chiesa deve riprendere a parlare all'uomo di oggi, stagli vicino e la Chiesa deve anche denunciare profeticamente tutte le aberrazioni che la politica corrotta, l'economia finanziarizzata e una società a volte vittima dell'individualismo non riesce a risolvere quelli che sono i problemi. Quindi una Chiesa che sappia denunciare, ma che sappia anche annunciare un mondo nuovo, che sappia anche mettersi a servizio, le sue strutture. Sarebbe bello che i conventi che anziché chiudersi e diventare alberghi o resort fossero dati a questi poveri italiani e stranieri che sono senza tetto, che hanno bisogno di essere accolti. La Chiesa deve essere credente, ma dopo che credente deve essere credibile, a loro sarà creduto. Credente, credibile e creduto. Noi abbiamo perso un po' di credibilità, la Chiesa ormai è residuale, è marginata. I giovani non ci vanno più in Chiesa, forse perché la proposta che sentono nelle Chiese è moralistica, è sessuofobica, è anche ritualistica, è fredda, è disumana. Il giorno in cui la Chiesa riprenderà a parlare all'uomo di oggi, allora credo che troverà ascolto in questi uomini. Possiamo dire che Don Pietro è tornato? Non è mai partita. Grazie.